Domani il presidente della provincia di Campobasso e i sindaci della conferenza provinciale sono chiamati a esprimersi sulla proposta di dimensionamento scolastico sul territorio di competenza. La CGL ha inviato le sue osservazioni, ha evidenziato una ristrettezza dei tempi per una vera interlocuzione con le parti. Per il sindacato occorre tenere conto delle specificità del territorio senza limitarsi a operazioni solo ragionieristiche. Nessuna discussione regionale su piano trasporti edilizia scolastica, offerta formativa, riordino della formazione professionale, ha spiegato Pino Lafratta della CGL, Federazione Lavoratori della Conoscenza. Manca, secondo lui, un'idea di fondo. Si prevede, ha detto entrando nello specifico il sindacato, il mantenimento degli attuali istituti omnicomprensivi con creazione di altri due istituti di questo tipo, Allarino e Campomarino. La normativa attuale prevede la possibilità di istituti omnicomprensivi solo in via residuale, non essendo prevista per essi nemmeno l'elezione del Consiglio d'Istituto, ma di un commissario straordinario. Inoltre, non sono previste aggregazioni di istituti di istruzione secondaria di secondo grado in poli formativi omogenei, mantenendo insieme, ad esempio, un liceo artistico con un istituto tecnico settore tecnologico a Termoli. La creazione di poli scolastici, tecnico, professionale, liceale, invece, ha detto ancora la CGL, consentirebbe di migliorare l'offerta didattica formativa. Sempre per l'istruzione secondaria di secondo grado, il sindacato ha sottolineato che si rinvia agli anni successivi il riordino degli indirizzi, ad eccezione della proposta dell'istituzione di un liceo sportivo a Campobasso, senza l'indicazione della sede, e della trasformazione dell'IPA in istituto tecnico. In questo modo, ha specificato Pino Lafratta, rimarranno le duplicazioni, due licei linguistici e due licei scientifici a Campobasso, due licei delle scienze applicate a Termoli. Vengono poi istituiti quattro istituti comprensivi a Termoli, senza però tener conto della dislocazione territoriale dei plessi e della distribuzione della popolazione scolastica sul territorio, accorpando scuole numericamente importanti, con altre che lo sono di meno. Ad esempio a Termoli, la Brigida, 526 alunni, con la primaria di via Maratona, con 154, oppure la Schweizer, di 179 alunni, con la primaria di via Stati Uniti, con 450. Secondo Lafratta, fa pensare che si tratti solo di una mera riorganizzazione numerica. Il dimensionamento scolastico, ha concluso la CGL, andrebbe affrontato diversamente al centro di un dibattito politico regionale.